Se Parigi avesse il mare. Dal Museo d'Orsay di Parigi all'Opera Pia Maria Santissima del Carmine, il titolo della mostra fotografica di Michele Cassano, allestita all'Istituto in Barivecchia, dedicata al movimento degli impressionisti in occasione del 150esimo anniversario dalla sua fondazione. L'energia e il senso del ritmo di colore applicato alle varie identità visive esplora le emozioni nei complessi anfratti delle città e dei protagonisti dei lavori in mostra. Un invito all'esplorazione delle emozioni impresse nel tempo sulle immagini. Monet, Renoir, Van Gogh, Degas, Marisot, Pizarro, Sisley e Chézanne. Insieme ai 21 dipinti degli impressionisti, originali e esposti al Museo d'Orsay, ci sono 10 foto dipinti di Michele Cassano, ispirate al movimento impressionista. Questa scuola, che è stata la mia scuola da bambino, anche ora ci sono i ragazzi che la frequentano, perché era doveroso da parte mia fare questa restituzione. La mostra è stata inaugurata il 23 alla presenza dell'assessore romano al comune, dell'ambasciatore di Francia qui a Bari, della presidente di Allianz Francais, quindi abbiamo anche ospitato i turisti francesi che vengono qui a Bari in questo periodo. E' questo un progetto che mira a contrastare la dispersione scolastica orientando i ragazzi a scelte future. Come diceva il professor Caccavale, che è venuto qui a presentare, che è un artista internazionale che vive a Bari, però insegna a Parigi, nel suo intervento ha detto proprio che è importante far vedere questi dipinti ai bambini, perché a loro dobbiamo trasmettere il senso della bellezza, dell'arte, della poesia. All'interno del nostro istituto abbiamo accolto con molto piacere l'iniziativa di Michele Cassano, perché ha dato l'opportunità ai nostri ragazzi di poter prendere visione dal vivo di quelle che sono le espressioni di questi autori. Il nostro compito è, combattendo la dispersione scolastica, di orientare i bambini alle loro scelte future. Non a caso tutti i ragazzini che dovranno compiere a breve la scelta per la scuola di secondo grado, si sono approcciati in maniera positiva e curiosa a quello che era la visione di questi quadri.